Un'altra azienda cinese torna alla ribalta con un'enorme novità nell'ambito dell'intelligenza artificiale e questa volta veramente folle, dato che si tratta del primo vero agente di intelligenza artificiale generale, AGI, capace sia di pensiero che di azione. Non si limita a pensare, ma agisce concretamente, è davvero pazzesco, i suoi risultati sono impressionanti, vi faccio un esempio, sta creando qua un rapporto completo approfondito analizzando le azioni di Tesla in più fasi, analisi della posizione sul mercato, quota di mercato e tante altre informazioni dettagliate, lavora su ogni passaggio con grande precisione e puoi vedere chiaramente come agisce. Inoltre si impegna a farlo con ogni singola fase, guardate qua, genera un rapporto completo di analisi finanziaria super dettagliata e una valutazione davvero accurata. Include anche una sezione di analisi finanziaria ed economica, con un benchmark per determinare se valga la pena di investire o sia meglio evitare l'acquisto. basandosi su valori reali del mercato e del titolo, questo nuovo concetto di agente generale è pazzesco. Permette ricerche estremamente approfondite e di una valutazione molto più accurata rispetto ai benchmark tradizionali. È incredibile quanto sia efficace e dettagliata nelle sue analisi, è una vera svolta ragazzi. Purtroppo quando clicchi su start eh, vi chiede un codice e non è utilizzabile da tutti, ma abbiamo una soluzione. Oggi vi spiegherò come installare gratuitamente la versione open source direttamente sul vostro computer. Ma preparatevi perché oggi è una sorpresa incredibile per voi. Sarà le hai a spiegarvi come installare se stessa. Curiosi vero? Ma prima? Ora vediamo come installare OpenManis localmente. Ci sono due metodi. Utilizzare Conda oppure UV, raccomandato. UV è un pacchetto Python per creare ambienti virtuali, ma seguiremo il primo metodo. Assicurati di avere installato Conda Python Git VS Code e il comando di installazione PIP. Una volta soddisfatti questi requisiti, apri il prompt dei comandi. Crea un nuovo ambiente Conda con il comando apposito. Attivalo e clona il repository tramite il comando indicato. Entra nella cartella OpenManis, installa le dipendenze usando PIP e poi configura le chiavi API aprendo VS Code nella cartella OpenManis. Modifica il file di configurazione, cambiando le impostazioni degli LLM e della visione, opzionale per specifici modelli. Se non hai chiavi API o preferisci non spendere, puoi utilizzare modelli gratuiti come GROC o Hyperbolic, che hanno alcune limitazioni ma funzionano bene per le prime implementazioni. Dopo aver effettuato le modifiche, salva il file eliminando il suffisso PONT EXAMPLE e avvia il programma con il comando Python MainPy. Vediamo ora un esempio pratico. Creiamo un'app Meteo con animazioni live che cambiano dinamicamente in base alle condizioni atmosferiche. Inserendo un prompt, OpenManis esegue il compito in tempo reale, mostrando nel terminale ogni fase dello sviluppo. Sebbene l'app non sia collegata a una vera API meteorologica, è comunque in grado di mostrare animazioni diverse basate sugli input casuali inseriti. E per oggi è tutto ragazzi, in descrizione troverete il link di Minus Open Source. Spero vi sia piaciuto il video e non vi dimenticate di sottoscrivere e mettere un like. A presto! A presto!